L'annuncio del Ministero dell'Interno era stato chiaro, arriveranno alla questura di Arezzo otto rinforzi, esattamente otto poliziotti, entro il mese di febbraio 2019. Ma secondo il Sindacato Autonomo di Polizia, nonostante sia cambiato il ministro, al Viminale hanno le idee ancora confuse sulle più elementari regole matematiche. Tocca quindi all'Associazione di Categorie, in particolare al SAP, fare i conti della SER. A fronte di questo rinforzo, dice il segretario Antonio Gibelli, si dimentica che negli ultimi due anni la provincia di Arezzo ha perso più di 20 poliziotti collocati in quiescenza e mai sostituiti. Complessivamente, secondo una stima del SAP, negli ultimi 20 anni il numero di dipendenti della Polizia di Stato in provincia di Arezzo è diminuito di circa 100 unità e non saranno certo gli otto colleghi in arrivo a cambiare le carte in tavola, prosegue Gibelli. La situazione non è certo da imputare al nuovo esecutivo, dal quale comunque il sindacato si sarebbe aspettato una maggiore trasparenza. La triste realtà è quella di una questura con uffici che vanno avanti a stento e solo grazie al sacrificio di poliziotti che, nonostante un'età media vicina ai 50 anni, garantiscono quotidiane prestazioni di lavoro straordinario. L'ancora più disperata realtà, prosegue Gibelli, è quella di vallate abbandonate a se stesse e di specialità come la polizia stradale che non hanno risorse sufficienti per presidiare la viabilità ordinaria e che a stento riescono a garantire il servizio in convenzione con la società autostrade. Il SAP ha più volte indicato la strada da percorrere per alleviare le conseguenze dello scempio causato dal turnovo pensionistico, ma tutt'oggi rimangono inascoltate le proposte dell'associazione di categoria per razionalizzare le forze in campo. Il SAP, da sempre forza sindacale propositiva, rivolge quindi l'ennesimo appello alla cittadinanza, alle forze politiche sindacali, alle associazioni di categoria, alla cittadinanza tutta, affinché la richiesta di sicurezza sia veicolata in maniera adeguata, pretendendo dalle autorità un impegno concreto nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione.